altro pacchetto non mi ricordo mai cosa ordino vediamo sempre una sorpresa per me allora così questi qui sono due fumetti della serie eroi dello spazio questo siamo 69 70 1969 70 50 anni fa e avventure nel cosmo fanno parte di una casa editrice che faceva questi fumetti questo del 71 se per si chiamava erano diverse collane sono abbastanza introvabili perché la gente di tutta la via chiaramente